Nelle ultime due settimane avrebbe messo a segno furti di arredi sacri in numerose chiese toscane anche in provincia di Arezzo a Monte San Savino. Per questo un 46enne fiorentino è stato sottoposto a fermo d'indiziato di delitto dai carabinieri. Individuati anche il presunto ricettatore di beni, un uomo di origine romena, e un rigettiere che avrebbe acquistato alcuni dei manufatti rubati per poi metterli sul mercato. Entrambi sono stati denunciati per ricettazione. Il 46enne è stato individuato grazie ai filmati girati dalle telecamere di sorveglianza cittadine presenti nei pressi di una chiesa in cui aveva messo a segno uno dei colpi. È stato poi riconosciuto anche nelle immagini delle telecamere che hanno ripreso i furti in altre sei chiese. Nell'abitazione del presunto ricettatore sono stati poi trovati e sequestrati dai carabinieri numerosi oggetti sacri, statue, dipinti e tappeti di cui l'uomo non avrebbe saputo giustificare il possesso. Tra questi anche alcuni degli arredi rubati dal 46enne. Quest'ultimo, comparso davanti al GIP per la convalida del fermo, è stato sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere.